Buongiorno a tutti, adesso faremo un altro video di Zorork 63 in Mario Kart faremo il trofeo buscio 50cc, cgn spiaggia di Peach cioè spiaggia di Peach la chiameremo semplicemente spiaggia di Peach sfocati e sfocaggine fu no non è vero non lo so se esiste non lo so, non importa ed è già che Zorork 63 passa in testa ed è secondo grazie a Donkey Konger tos no non è vero non è vero capita anche a me dire cioè capita spesso e volentieri vi è un'altra c***a reazione ah si oggi sono con Todd Bastrofio levati 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 non mi insedire ti faccio un sedere grosso come il tuo amico cioè tu ti faccio grosso come te ah 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 anzi ti faccio il doppio ah capite la battuta no non è vero non ho fatto la battuta come un po' di mavanti con questo guscio rossa molto interessante e la bomba mi mancava mi mancava la bomba proprio non è una di quelle cose vaffanbrodo che mi mancava strombolo non siete altre proprio da qua dentro voi siete stromboli da dentro al cuore e sono misteriosamente primo sono misteriosamente primo no non ti levi te oh ah ah quando non è ho mandato la bomba in pratica ma mangiamo tante scatole ya in realtà non si mangiano le scatole si ho beccato chi è che ho beccato di fianco alla Fast and the Furious anche se anche se alla Fast and the Furious non ci sono i gusci verdi un altro guscio verde vediamo un po' non mettiamo nessuno cioè in pratica il guscio verde era più grande di me come ho fatto a lanciarlo non ve lo chiedete chiedetelo chiedetelo ai creatori dei ah sto affocando sto affocando nella mare no ah ah no levati 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 soccato no qua me la sono cercata non ce la mette però sinceramente me la sono cercata sì e passa in mezzo tra la scatola e l'altra scatola lancia no ah ah non è una 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 un guscio di tartaruga in movimento no donkey congo 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 come vuol dire no donkey o no lo vuol non lo so stio di inglese non è che sia bravo quindi congo e scimmia e donkey non lo so schiarisci un'altra volta ma non capito perché ogni volta che parte la telecamera fa una cosa strana che sfocata tutto la sfocata il contrario di sfoca adesso è foca guarda quella bella foca è sfocata cosa come fa ungh e non dico cose che non potrei dopo pentire cosa cosa ho fatto ho fatto un troppo di magia non è vero non è vero non è vero grazie wario dai che sto prima dai che ah no è vero non è vero non è vero non è vero mi stavo preoccupando no donkey kong che sto tanto volento donkey skong donkey skong donkey skong donkey skong donkey skong perdere donkey skong donkey e e mi mancava sono qua anche se dai almeno vado più veloce ma perché ah 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 e supprimano è vero è un po' che mi cosa ho fatto è muoio ho una vecchia no con cui è andato muoio ah di qua sei per ultimo no sei per secondo non è vero spai da otro non sei ultima vuota quella lei è sempre mia si apre la full dai vai andiamo 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 dai 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 veloce 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 ho rischiato credo che c'era uno di non è che non c'era veramente nessuno dietro sennò rischiava la brutta alla cieca non vedo come ho fatto Wario ad essere terzo prima era l'ultimo la seconda no con la fantasma ma cos'era? non lo so peccato Gorriano con la cuglia se non è che tever una va per strada con la cuglia ti viene da pensare vabbè lo so che sono ripetitivo io ho questa strada all'inizio la prima volta che giocavo credevo che la bisognasse andare sempre avanti e cadevo sempre in pratica quindi ero sempre l'ultimo in questa pista anche se in realtà con il passare del tempo cioè due o tre anni no sto scherzando no mi sono cosa 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 è successo mi sono salvato mi sono salvato cosa sta succedendo non sono più io Zora Zora 63 sta abbandonando il campo sta abbandonando il campo delle figuracce del cavolo come si dice si dice buonasera cosa cosa stanno succedendo ok dai qua si salta giusto si che 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 tranquillità sta questa pista è tranquilla si vittà muta non si sente eeeh ebay così si sente piano ma una pista diciamo non difficile ma anche tranquillo non un po' tutta calma così buttata di fuori povera banana che ha fatto la sua vita quindi un minuto di silenzio per quella banana un minuto di silenzio e va e va e va prima e va prima e comunque quelli che mi stanno ascoltando bisogna fare un minuto di silenzio per quella banana per quella povera banana che tutti i giorni ha fatto la sua vita ed è finita così tutta ad un tratto quindi fate un minuto di silenzio prego ok un minuto di silenzio l'ho fatto anche se non l'ho fatto però voi a casa la dovete fare mi raccomando banale tipo questo qua davanti tutti i giorni risiede rischiano la vita muoiono anche per difendere il loro nome di banana il loro nome anche a volte inutilmente con le stelle warp o con i cannoni c'è da pensare a queste cose quindi mi raccomando mandate un euro al numero sotto impressione anche se non so come si mette quindi ve lo dirò a voce 5 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 7 mi raccomando mandate un euro mandate un sms per questa cosa di chi era? di chi era? no non è mia sì dai questa qua dai questa qua l'ho voluta sempre fare no no niente non la faccio più no niente volevo fare una cavolata un po' dietro no comunque sto dicendo anche la vita delle banane e soprattutto l'istruzione è molto vaga non si pensano queste cose quindi no la svanancerina è avanti anche i gusci di di cupa peschiano molto la vita tipo questa banana è stata appena lanciata però credo che la sua vita sia ancora molto vaga quindi mandate un sms a 55555557 ok mandatelo mi raccomando tipo anche questa speriamo che Todd non faccia yukuu perché se non vuol dire che è morta con la banana stupido cupa comunque queste banane sono via di estinzione anche queste scatole hai visto avete visto questa banana è stata uscita da me per esempio non chiamate la polizia perché sono già penchita mi ha rubato mi ha rubato l'oggetto 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 no 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 è vero che lo credo che era la fine porca miseria no mi ha rubato tutti gli oggetti l'oggetto anche questi gusci vengono trattati molto male anche se la loro vita è più vaga molto arrivano molto comunque andiamo avanti e vai momenti di disperazione veramente questi punti comunque stavo dicendo andiamo avanti e anche credo che questa pista no sto perdendo sono l'ultimo sì sto perdendo e c'è un perché e c'è un perché perché ho detto che sono l'ultimo ma chi se ne frega visto l'inchiostro mi capitasse soltanto questo è divento nero è di colpo Todd divento nero anche anche in questa puntata non ci fu la bomba no forse c'è stata la bomba non mi ricordo comunque mi raccomando pensate sempre ah ho fatto scritto a 10 minuti di video vabbè allora non faccio altro faccio anche l'altra pista io sono Todd continuerò con Todd sì dai tanto Wario contro Luigi sì dai mancavo soltanto Bowser se io ero Bowser per esempio facevano il trio della malvagità non è vero c'era anche Rebu però non importa Mr. Bean io sono sempre Mr. Bean come Gran Premio solo kart solo kart con la reazione automatica perché avevo sbloccato troppo speciale però essendo che è speciale lo vorrei fare all'ultimo non video perché è soltanto kart all'ultimo puntata dei 50 cc troppo banana bigliaccio credo non lo so schiarisciti è schiaritura io sono un po' io sono mistico io sono mistico io sono tra Marco Valeno no non è vero li ho preso per il sedere no non è vero non li vedo sinceramente spero che quelli che mi vedono cioè chi mi vede cioè nessuno cioè io mi vedo da solo a volte i video mi vedo da solo i miei video in pratica non mi faccia mai vedere il tuo sedere cioè non mi faccio non mi fai vedere il tuo sedere cioè non vedo il mio sedere si impiccionisci chi è? non lo so non lo vedo ah picc pesca ah pesca la principessa pesca ciao a te questo qua è un altro video di colori che è 63 no non è vero dai continuiamo scusate vabbè anche io sono umano diciamo sudo a meno 40 gradi comunque sembra che io sia umano poi che lo sia davvero non lo so ho le caratteristiche ho 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 tutte le caratteristiche di un essere umano tranne che ho due cuori no è vero non lo so ok andiamo yeah anche questa pista qua è una di di quelle piste normali cioè che non che non stressano la come dire non è che dicono che pizza ah no il pinguino si grazie chi me l'ha mandato grazie lo ringrazio molto che fortuna cioè è andato a sbattere contro quel pinguino che si è sconvolto in pratica si in effetti è andato ma perché anche questi così sconvolgo cioè è normale una banana c'è una banana si c'ha una un guscio in testa il pinguinone io io veramente io vorrei che alla fine del gioco ci fossero delle modalità speciali in alcune piste tipo che ti viene quel quel pinguino e ti attacca quindi si contro un pinguino il pinguino pensate sempre ai pinguini sono molto voraci soprattutto in Africa dove fa molto caldo abitano i pinguini e fa sì oh in terra della mia partita vabbè vai vai a vedere tanto vai di là eh ok ok vabbè tanto di questo sono impegnato io quindi se la vedo dovrà se la vedi di quella partita ma di cosa di calcio se no se era di macchine poti vedere la mia la non è che c'è un'altra differenza vai vedere Schumacher qual è il suo rumore vedere Schumacher e vedere Todd che va il pinguino il pinguino io sto girando no niente e questa è quella terza banana in tre giri oh 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 no oh ah 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 no vabbè dai sconvolgiti più o meno no vai avanti vai avanti no no vabbè ok volevo fare stile cane quella della pubblicità delle delle non posso dirlo perché se no poi dopo free spam free poi mi dovrebbe preoccupare poi magari mi chiudo nel canale per per spam perché ho fatto pubblicità occulta 12 no dai ehm vediamo Todd in questa multinazionale no che cavolo esplode ed è così che esplode no oi i crabbi patti oddio ci sono dei crabbi però potevano mettere ma essendo che i pokemon sono della nintendo potevano mettere i crabbi al posto di quelli all'altro cioè mario kart mi pare che sia della nintendo la mario mario è della nintendo potevano mettere grazie ma non è vero sono anche i si porca mio me ne lasci una grazie e tra i due litiganti il terzo gode è arrivato Luigi nella sua cosa tradizionale no non me l'aspettavo l'ombrello è così l'ombrellone si apre ah porca ne cavici dentro vai krabby patty krabby krabby o kingler no non mi viene no non mi viene ciao non l'ho presa stanta polenta ah 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 sto facendo ai che cai che stai fermo adesso è così povero fungo è affogato adesso mi voglio far vedere una cosa e così si chiude ok no voglio prendere questo non è ma e non che ogni ma perché sto dicendo krabby patty senti io posso dire krabby patty quanto vuoi krabby patty krabby patty krabby patty guardiamo i kingle questo è un bug secondo me si ok dopo averne presi 50 no non è vero vediamo in stato di ebrezza ancora sarò no si va bene non mi ha fatto niente non si vede in stato di ebrezza trofeo banana ma non è che ho fatto due volte il trofeo banana no 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 niente il primo era il trofeo guscio spero si no 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 credo di aver fatto due volte il trofeo banana vabbè non è la prima volta che non mi capita dai ma che schifo mi sto guardando vi vedere da dietro cosa? ah no niente c'è una madre non è vero i days ecco e le prende di striscio no di 1700 UA c'è la patina una battita la natura turbo è sempre pulito mi hai fregato l'imposto ebbe così che salto e miracolosamente morì non c'è nessuno dietro andiamo un po' a caso cosa sto facendo no niente andiamo dritto no sono già seconda dovresti abbogliato no che cosa ma per capo ma perchè stavo dicendo diciamo che stavo dicendo perchè perchè si dice perchè come faccio ad essere certo così levati grande tod non so cosa vuol dire si no è vero io tod non so che ci pensa è vero tod levati money maker no 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 ho perso il divertimento tutto di un botto no e fa un brodo e fa un brodo e fa un brodo una volta una volta mi sono arrivato sono rimasto stupito sono rimasto stupito sono rimasto stupito no non mi passa ho pitch alle calcagne ok vai vai avanti mi sta beccando vai avanti peach ah così adesso mi lascio un po' lontanata vai dritto vai dritto intanti vanno a schiantarsi si vede si vede credevo due no come ha fatto a beccarci c'è una possibilità veramente dai dai vai no ma non vale dai vai alzati alzati ponte ponte elevatoio ah ho saltato il ponte elevatoio ed è così che si la storia di di tod dai vai che magari la supero pure no non la supero niente va eh 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 abbassa un brodo no io sono secondo prima ho fatto quella cavolata di fare tanto beh so primo è sempre però comunque ah niente joshicart no no josh no no si bene questa cosa mi piace ma allora non me la ricordo ancora scusa non me la ricordo io l'ho fatta così poche volte io è troppo banana yeah ma cosa ridi yeah non è ah fa un brodo no 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 si apre del tutto la tettuccia tutto tettuccia non a casa non a casa lancia ma mia roli non no non non ma ne si mica tanto io me la tango ah io ho sbattuto ho sbattuto forte la tessuccia prende l'unica casa che c'era si chi se ne prega si stanno andando a sbattere contro che vergogna non è vero mi ha passate molto più ah ho fatto un salto ancora si poi cos'altro dai mi arriva almeno queste qua le prendono tutti prendono tutti la batossa io sono sfigato eh cioè c'è qualcosa c'è qualcosa che non va dai 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 no 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 ok lerati lerati pianta 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 No, non l'ha presa, sono andato più in alto Io guardo le cose da più in alto Perché sono all'interno? Sì, sono Baby Peach E no, sono Baby Toad Sono Baby Baby Toad Santa Polina No Potevano aspettare 20 secondi Sì, in turbo addirittura Un turbo Chiediamo cosa dice la nostra esperta I nostri sacchiotti pelosi Santa Sì, ma tutta colpa dei Dei politici Non lo so Non chiede Tutta colpa dei politici No Vai Non andare nel fango Non devi andare a prendere le rane No Ma dai C'è giusto No No, sono terzo Che posso recuperare E c'è giusto Porca miseria No 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 No, sono secondo No Ma non è giusto Non è giusto Almeno Però me l'hanno data la trofea La trofea Furia Ma sì Ma sì Da chi se ne fai Anche se lo faccio di mezz'ora Di 40 minuti Facciamone un'altra Dai 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 Usiamo Donkey Kong Usiamo Donkey Kong No, non Tod Non Tod Non Tod Non Tod Mi sono stancato Usiamo Mario Dai È un casino Non l'ho mai usato No La di Biscuanti Cioè Scusa Trofeo foglio Poi faccio L'ultimo Quello a destra L'ultimo a destra È nella prossima puntata Forse No Nella prossima puntata Intanto faccio questo Poi nella prossima puntata Però L'ultimo Il trofeo speciale È il trofeo Che mi Che credo Spero Vabbè Anche se non lo vinco Farò delle Giocherò Da solo È Vincero 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 No comunque È una canzone Che ho inventato Sul momento Oppure c'è il copyright C'è il copyright Su questa canzone Questa qua Adesso è una canzone mia Piccolo Mario Oppure E ci passa in mezzo Niente Che cavolo No E non prende pure Neanche la scatola Che scatola Che rotterra di scatola Vai Vi Non C'è L'unico Di Fai Non No Dai Andiamo Vabbè andiamo No Sto diventando stancante Vabbè Adesso faremo questa pista Com'è vaffanbrodo Ok mi è ritornata la voglia di commentare Che odio Oddio si sono Si è formata Cioè non ci arriva nemmeno Sono proprio piccolino Piccolo bambino Che non ci arriverà mai Adesso siamo a tre Almeno credo No credo No Santa polenta Pure Dai almeno Cosa ho fatto a beccare No tod del cavolo Sono da quello che Prima non mi hai neanche fatto vincere Mi hai fatto pure perdere Comunque sono da quello che Prima non mi hai Cioè mi ha santa polenta Piccolo che è Ah 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 Finito Prima gara adesso in it Wario Wario Non mi continuo Oddio ho soltanto 16 minuti Credo di farcela Credo di farcela Questo cos'è il cassero di Bowser No Non so Dabbè non importa Dai Facciamolo Facciamolo Io lo so Vedete Cade Così Per cui Ah niente Non cade Todd Todd del cavolo Grazie Non vale E santa polenta Donkey Kong Dove Sapevo che dovevo Usarti pure Cos'è Sta mafia Perché sapete Che Oh santa polenta Ok Credo di andare Nella lava Supera noi Supera Oh cazzo Grazie E Chi Cos'ha Chi Che è stato Sei stato Tu Todd Tu non puoi essere stato Todd E invece Questo molto Sei stato Tu Però Che capro Basta Ah credevo Che lì Nebu Non levati Vai Vai dritto Io non sto vedendo niente Io sono andata No No Nel 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 Sto Vedendo Vabbè Posso andare dritto Girare bruscamente Lanciare una di queste Girare bruscamente Con botte in testa Botte in capa Girare Ah adesso ho capito il trucco Girare Di nuovo girare Ma anche Stavolta Più Bruscamente Tutte 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 Girare Ancora più bruscamente Non andare Nella Spero che qualcuno Sia andato Nella lava Sinceramente E' sopra Di nuovo Di tanto Così Va Fanno Di tanto Benamare che Non sono In quel posto Se no Non so Se ci arriva No vabbè Arrivare ci arriva Mamie Ma neanche uno Andiamo dritti Dritti Senza niente Girare Adesso Giriamo Poco 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 Non bisogna Sforzarsi Soprattutto Se mi date Pitch Oh yeah Girare Bruscamente E adesso Alla Pazzagione Ma perché Qua batto Senta Senta Polenzi Sì pure Senta quello che Ero lontano Però Ah mi hanno fatto Distrarre I cosoni E Girare Ancora più Bruscamente Evitare La banana Evitandola Ah Ah Santa polenta Vabbè Non lo sentite Perché io Odio Fare Ok Vai 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 Via 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 Dai Mari 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 Vai un po' lento Lo so Non importa No Non l'ho preso E Basta E purca miseria Purca Purca miseria E adesso Tutte Adesso c'è una Bella Solo Presina Secondo me Il computer Come se si potesse Come se potesse Sosposare Adesso è facile La strada Diciamo Ma diciamo anche di no Perché Se c'è anche Sta fa Are Are Che rompe Io ho paura Che cada L'ultimo giro Quanto ci vuole Ancora due Giri Sì dai 10 minuti Sì ce la faccio Boh Non lo so Spero Spero Di farcela In 10 minuti Ce la faccio pure Due gare Due parsa Spero di sì Mi sento Adesso ho già fatto Un casino Viene Di cose Ah non sono Nessuno è partito Veloce Dai Tutti Che salute Ciao 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 Levati No No Dovevo toccarlo Che cavolo Sì dai Dai rendimi piccolo Le ali di squalli Servono a qualcosa Dai 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 Vai su Ricresci Ricresci Vuoi fermare la barba? Non so cosa dire No 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 Baby pig Tu sei qui Lei è la Yanta Che culo Che culo Che culo Che culo Pure Mì ma cos'è Sta roba Cioè ogni santa Ogni santa Cioè Non manca un giro Dove Oh Una cosa Oh E vabbè Chi se ne frega Sta roba Cioè me ne sono Capita Me ne capitano Di peggio Di ste roba Cioè boh È già finito Cioè E di sicuro Ok Adesso gliene Lascio Un bel ricordino Ah gira 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 Oh grazie cartello Anche là Chi prenderà Quella scatola Mi romperò Le scatole Mi romperò Le scatole No Non esiste Le canzoni Non lo so Non lo so come fa Vabbè Stavo Stavo Non stavo muovendo Il persagno Come andiamo No Sono la Eh Eh porca Però è possibile Eh Sono terzo Poi c'è Piscchi Sopra gli occhi Cioè Oh No Non ci provare Se Eh Yeah Intanto Ho già superato Yeah Questa qua Non è nuova Qua ci possano Uno solo Una volta Dai Una banana Una banana Un guscio Bene E vai Perché tu di sicuro Qualcuno Non puoi Evitare quel colpo La Il guscio E' passato qualcuno Sì Perché non ci sono Te le mie banane La Pure Come fanno a cadere Le mie toraccole Molto ingegnosi Molto ingegnosi Ehm Io Veramente La vorrei Buttare Qua Eh va Eh vabbè Meno preso Così Dai Cresci Dai Quattro Minuti Porca Ho paura Che non ce la faccia A fare l'ultimo Dai 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 Ho quattro Ho quattro minuti Ho cinque minuti Là in pratica Spero proprio Di farcela Dai 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 Un turbo Qualcosa Ma che cacca Non che sarò Qua Non la banana Chi se ne prende Non ci manca avanti Tanto Dai Sì Sì Ho finito Ho finito Dai 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 Ancora Una Ancora Una Mi sa che non ce la faccio Nei tempi Perché ho tre minuti Quattro adesso Dai Dai Veloce 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 Cos'è 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 Il circuito Di Mario Dai Che veloce Veloce Mi pare È veloce Spero Dissi Che è veloce Dai Mario Mario Ce lo dovresti fare Quelli L'hanno preso Da Kirby Copione Gli alberi L'hanno presi Da Kirby Vai Mitsu Vai Veloce Mi recupero Una buttatoria Ok E vai Levati Levati Mi sei No Grazie Quel cane là Mi ha salvato Dai Vai So prima Dai 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 Questa qua Di Monza Dai Dai Vai Lanciali indietro Dai 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 Ragazzi Vai in mezzo Vai in mezzo Vai in mezzo Vai in mezzo Dai Vai 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 Quanto ci ho messo Un giro Un giro Un giro Un giro Un 40 minuti 40 Sì Porca miseria Sono tutta velocizza Dai vai Posso fare anche di meglio Dai Sì Chi se ne frega Basta che finiamo la gara 2 minuti e 23 Dai vai 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 Vi lascio 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 Vai indietro Vai indietro Vai indietro 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 Ok Adesso vai avanti Vai avanti Non mi frega Mi ha così fregato Ho due minuti Ho due minuti adesso Dai non ce la faccio Non ce la faccio Non ce la faccio Non so Dai vai 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 Non preoccuparti Del tempo Vai avanti Vai avanti Inizio Dovrò farei saluti Molto veloci Infatti si dice Saluti I più belli Sono quelli I più brevi Dai 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 Ti salverà la musica Non mi salverà la musica Vai 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 Non farti beccare Dalle piante Dai 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 Sì 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 L'ultimo diro Dai 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 Che forse Ce la posso fare Che chi se ne frega Basta che vai 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 Un minuto dai 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 Forse ce la faccio Dai aiuto Dai corri 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 Mario Mario Per favore per favore per favore Non mi freghi